La Casa Intelligente Sì, non è proprio così, nel senso che è una scelta che io credo importante per la Regione, proprio in questo territorio io incardinerei la Regione Marche, perché come si diceva una Regione con la più alta aspettativa di vita, manifatturiera, oggi qui si incontrano imprese, aziende, sanità. C'è una progettazione, come diceva il Presidente d'Italia Longeva nella presentazione del lavoro, imprese che guardano al futuro, una Regione che guarda al domani e che vuole integrare imprese, sanità, terza età. E' una cosa molto interessante, credo che sia un modo per guardare oltre la crisi, per creare le condizioni di un futuro migliore, sia nel campo assistivo, ma anche nel campo dell'imprenditoria. Mi sembra importante che tutte le imprese abbiano partecipato in maniera straordinaria, si è mobilitato un territorio, le Marche, e attorno a un'unica opportunità che è la longevità attiva. Sì, la sfida era proprio questa, coinvolgere le imprese più innovative, più creative della nostra Regione su un unico tema. Abbiamo parlato del progetto Apollo quando lo abbiamo lanciato, gli americani dissero noi vogliamo andare sulla Luna, alle imprese hanno chiesto di realizzare quei materiali, quei prodotti, quei servizi necessari a realizzare quell'obiettivo che richiedeva nuovi materiali, nuove tecnologie, nuovi servizi. In questo caso noi non vogliamo andare sulla Luna, ma semplicemente offrire agli anziani dei prodotti e dei servizi migliori che ancora non esistono. Per questo abbiamo sfidato le imprese e le imprese della nostra Regione hanno raccolto questo invito e hanno prodotto quello che oggi vediamo. È un primo passo perché qui siamo alla metà del budget messo loro a disposizione, c'è ancora un'altra parte che nei prossimi mesi loro continueranno a utilizzare per sviluppare altri prodotti e altri servizi per far evolvere quelli che oggi vediamo. Un'altra linea sarà quella dell'applicazione di questi prodotti e di questi servizi alle abitazioni. E qui lavoreremo insieme all'Erap, all'Istituto regionale per le abitazioni, per cominciare a creare un'architettura, un'edilizia che già incorpori queste conoscenze. Dottoressa Lattanzio, direzione scientifica dell'IRCA, un apporto importante per questa casa intelligente, un lavoro di squadra? Sì, devo dire sì, siamo veramente tanto orgogliosi, non tanto per il risultato, perché non tocca a noi dirlo, ma perché c'è stato veramente un lavoro di squadra e questo dimostra che anche il pubblico può fare, può fare bene, può lavorare con metodo, integrando diverse professionalità, il mondo industriale, il mondo accademico, il mondo della ricerca e il mondo sanitario. Come sarà operativa questa casa intelligente e fra quanto? No, in realtà da subito noi abbiamo previsto la possibilità di organizzare eventi e di lavorare all'interno del centro. Definiremo soltanto l'operatività in termini di numero di giorni in cui verrà aperto, però lo renderemo certamente attivo da subito, anche perché abbiamo creato anche una biblioteca multimediale qui, che è l'unica in Italia in questo momento su questi temi. Sì, quindi è disponibile su internet, però c'è l'accesso anche qui in locale. Per l'IRCA è un'occasione anche all'Expo del 2015, perché ha detto il Presidente che arriverà le marche, l'IRCA e Italia Longeva. Sì, devo dire che proprio ieri facendo il comitato tecnico scientifico dell'IRCA abbiamo creato un gruppo perché si potesse lavorare sulla nutrizione, avendo questo forte empowerment dalla regione Marche e così come l'abbiamo utilizzato per studiare l'utilizzo della tecnologia nell'assistenza all'anziano, così lo vogliamo fare per la nutrizione, per essere pronti e supportare la regione per i contenuti nell'Expo 2015. Dominicio Albanesi, da Presidente non si è dimenticato di sottolineare il lato umano anche in una casa intelligente dal nome un po' troppo inglese? Ma sì, perché la tecnologia è utile, perché rende le cose più facili e più accessibili, però non bisogna mai dimenticare le persone con i loro problemi, soprattutto con le loro solitudini, con la storia che hanno vissuto e con tutto il patrimonio materiale ma anche spirituale che ci ha lasciato. Quindi la persona va sempre comunque curata, accudita e voluta bene, in un ambiente più adeguato, in un ambiente più moderno, le due cose possono e debbono coniugarsi.